C'è tutto, c'è l'opposto, c'è lo sguardo, lei sa, scusate se le faccio questa domanda, è questione di italiano, lei, come schienazzita? Lei ha schienazzis? Ha schienazzis, sì, sì, sì. Ecco, lei sa tutto sul Dibuk? No, no. Sa cos'è il Dibuk? No, no. Sa cos'è il Dibuk? No, cos'è il Dibuk. Non lo sa. Cos'è il Dibuk? Sè il Dibuk? Dibuk. Dibuk, c'è una tradizione ebraica, in cui il Dibuk è un'anima negativa, anima negativa, di un defunto, cattivo, che entra nel corpo. Ah, sì, 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 certo, certo. Grazie. 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 Grazie.